buongiorno a tutti cari ragazzuoli benvenuti o bentornati nel mio canale oggi partiamo con una nuova rubrica che si chiama il vaso di pandora dove andremo a riscoprire tutto quello facente parte l'universo retro gaming sostanzialmente basandomi su due tipologie di video il retro unboxing dove appunto andremo a vedere le confezioni dei giochi del passato e cosa era celato al loro interno e il retro gameplay dove appunto invece proveremo sul campo le vecchie perle del passato e per questa prima puntata del vaso di pandora partiamo subito col botto perché vi presento un gioco molto famoso in ambito pc per quel che riguarda il genere delle avventure grafiche perché signori rullo di tamburi partiamo con the dig gioco della mai mai abbastanza compianta lucas art del 1995 appunto come ho già detto prima facente parte del genere delle avventure grafiche punte clicca classiche basato sul sullo scum il famoso motore ideato da ron gilbert per creare la loro primissima avventura ovvero maniac mansion signori questo è un gioco che per me rappresenta tanto come tutte le avventure di lucas art è un gioco veramente fantastico spero che in molti di voi lo lo conosciate e per tutti quelli che non lo conoscono magari ditemi se appunto volete un gameplay che così vi mostrerò molto volentieri di che tipologia di gioco si tratta ma non perdiamo tempo e vediamo come erano appunto fatte le confezioni degli anni 90 per quel che concerne il mercato pc queste qua signori venivano chiamate big box e era lo standard dei giochi pc appunto degli anni 90 tutti i giochi per pc in quell'epoca uscivano in questa forma che adesso è diventata anche molto ricercata ed erano erano delle gran belle confezioni che poi purtroppo con l'avvento degli anni 2000 sono andate a sparire quindi vediamo un attimo la copertina frontale che ci viene detto un'avventura nello spazio profondo da sean clark ha in collaborazione appunto con steven spilberg perché diciamo ha contribuito allo sviluppo di questo gioco anche il signor steven spilberg che è tanta roba e come vediamo le costine laterali riportavano il nome del gioco nella parte sottostante venivano indicati tutti quelli che erano i requisiti per far girare il gioco all'epoca che adesso sicuramente vi strapperanno qualche risata però all'epoca diciamo era era lo standard e avere diciamo questa tipologia di computer non era cosa da tutti ma passiamo al retro il retro ci dice hai salvato la terra dalla distruzione totale ma riuscirai a tornarci come vediamo ci sono anche un paio di screenshot del gioco e in basso a destra ci sono le caratteristiche fino a 200 ambienti diversi e centinaia di enigmi effetti speciali realizzati dalla famosa industrial light and magic e anche qui signori tanto di cappello dialoghi curati dal premiato autore di fantascienza orson scott card e colonna sonoro ispirata alle melodie di wagner accentua l'atmosfera surreale quindi capiamo da tutta questa serie di cose che era stato fatto già un investimento abbastanza grande all'epoca per un per un gioco del genere ma quindi adesso andiamo all'unboxing vero e proprio che una volta aperto si mostrava così cioè con la classica scatola di cartone con il manuale di gioco e signori si una volta i manuali c'erano nei giochi non è come adesso che purtroppo sono diventati pura utopia vabbè in questo caso era un classico manuale in bianco e nero con le varie istruzioni di gioco e niente più però in alcuni casi erano fior fior di manuali ve lo posso assicurare il cd di gioco classico con appunto stampata la stessa copertina della della scatola e cosa molto diciamo in voga all'epoca soprattutto con i giochi della lucas art era presente questo foglietto per richiedere la versione full ita cioè completamente italiana con i dialoghi appunto nella nostra lingua perché quella quella che vi ho mostrato io che quella che ho il mio possesso trattasi della versione preliminare cioè praticamente il gioco ai sottotitoli in italiano ma i dialoghi in lingua inglese che era appunto la prima uscita nel mercato poi all'epoca per coloro che appunto avevano comprato questa versione veniva dato all'interno questo foglietto con la richiesta come vedete in basso da compilare e appunto una volta mandato il foglietto alla cto che era la la casa che si occupava di distribuire i giochi della lucas art veniva inviata non gratis veniva inviata con un ulteriore contributo monetario veniva inviata la versione appunto completamente in italiano che appunto era molto più fruibile era anche molto più bella da sentire a livello audio bene questo era il primo retro unboxing che ho voluto portarvi in questa nuova rubrica fatemi sapere se può interessarvi una cosa del genere se vi piace perché io a me piacerebbe portarvene molti sia di retro unboxing e sia di retro gameplay magari nei commenti fatemi sapere se volete anche dei magari dei retro gameplay di qualche gioco che vi ricorda magari l'infanzia e volete magari che io li giochi per voi attraverso un gameplay da fare su questa rubrica e nel limite del possibile verrete accontentati bene io ho detto tutto quello che dovevo dire ripeto spero che questa rubrica vi possa piacere vi ringrazio di aver visto di aver visto il video vi invito come sempre a passare anche per la pagina facebook e a lasciare un mi piace e qualora lo ritorniate opportuno lasciare un mi piace anche a questo video ci vediamo al prossimo retro unboxing o retro gameplay e naturalmente ad un prossimo video ciao ragazzuoli